San Francesco arriva a Gubbio In quel tempo a Gubbio San Francesco arriva a Gubbio. In quel tempo a Gubbio. Un lupo grosso e cattivo spaventa tutti gli abitanti. San Francesco incontra il lupo. Lo convince ad essere buono per essere benvoluto da tutti. Da allora il lupo divenne buono e tutti si affezionarono a lui. Alla sua morte molti lo piansero. Dopo alcuni anni fecero una statua in suo ricordo. San Francesco arriva a Gubbio In quel tempo a Gubbio. Un lupo grosso e cattivo spaventa tutti gli abitanti. San Francesco incontra il lupo. Lo convince ad essere buono per essere benvoluto da tutti. Da allora il lupo divenne buono e tutti si affezionarono a lui. Alla sua morte molti lo piansero. Dopo alcuni anni fecero una statua in suo ricordo. Dopo alcuni anni fecero una statua in suo ricordo. Dopo alcuni anni fecero una statua in suo ricordo.